Il giovane ma già esperto maestro pizzaiolo Raffaele Bonetta in cattedra all'Accademia Nazionale Pizza Doc di Salerno. Tra farine e ingredienti Raffaele Bonetta è sostenitore della famosa pizza Canotto. Bonetta ha dato lezione proprio sulla preparazione della sua specialità. Abbiamo lavorato su un profilo tecnico, abbiamo cercato di lanciare dei concetti che siano legati ad avere un'identità sulla pizza e credo che ci siamo riusciti. L'ingrediente insieme alla tecnica di lavorazione rappresenta l'impalcatura di un buon prodotto quindi fondamentale. In questi due giorni abbiamo proposto dei concetti di panificazione quindi non dimenticando da dove partiamo, lanciando dei concetti e delle strutture a modo nostro quindi dei prefermenti studiati per la gestione in pizzeria. Grande importanza durante le lezioni hanno avuto gli istruttori, veri e propri tutor degli allievi dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. Con il massimo impegno cerchiamo ogni giorno di formare nuovi ragazzi e di approcciarci a rendere unica questa esperienza e questo lavoro che oggi come oggi, come dice sempre Vincenzo Fotia, non conosce crisi. Grazie all'Accademia cerchiamo di offrire sempre il meglio per questi ragazzi. L'Accademia che ormai si sta facendo conoscere bene anche in Calabria. In Calabria è una grande realtà, la sede di Siderno, provincia di Reggio Calabria, abbiamo istruito già attualmente in tre corsi oltre 50 ragazzi e il prossimo 18 marzo ne avremo anche modo per farne altri tanti. L'Accademia ormai si sta cementando sulla sua alta qualità didattica e l'offerta formativa di ogni singolo corso periodico tenuto con frequenza quasi settimanale nei vari punti del continente europeo. Anche oggi si è rilevato un corso di successo, abbiamo avuto corsisti a tutta Italia e anche dall'estero, Polonia e Francia. Questo va sempre di più a consolidare la nostra voglia di andare oltre i confini internazionali. L'Accademia nazionale della Pizza Doc ormai è un brand europeo, se non addirittura mondiale. Sì, stiamo cercando di portare il nostro modus anche fuori, iniziamo ad aprile con Vienna con la collaborazione del nostro amico Luigi Le Soro e poi faremo Amsterdam, stiamo chiudendo Francia, Israele, Canada. Stiamo cercando di portare anche oltre i nostri confini nazionali il nostro modus e il nostro brand Pizza Doc. Nel brand è importante anche l'ingrediente, avete fatto una filiera di qualità per la Pizza Doc? Diciamo che noi ci accompagniamo con partner importanti come Molino Caputo, Latteria Sorrentino, Pelati Ciao, Meccano Sud, Carbone Conserve, quindi ciò gratifica anche il nostro lavoro perché essere accompagnati da aziende che hanno comunque importanza nel mondo pizza significa che qualcosa di buono lo stiamo facendo sicuramente. Oggi è fondamentale mangiare di qualità? Sì, mangiare di qualità, mangiare una buona pizza, come diciamo sempre noi durante i corsi non spieghiamo sicuramente il segreto della pizza ma cerchiamo di dare le basi su come fare un buon prodotto e su come scegliere prodotti di qualità. Altri appuntamenti a Salerno? Per il momento abbiamo a marzo, fa due settimane, il corso di pizza fritta con Gennaro Russo e Isabella Deschamps, poi avremo il master istruttore con Giorilli e poi iniziamo il tour con Messina settimana prossima, Torino, Vienna, Amsterdam. Diciamo che abbiamo un calendario ricco e quindi finiamo tutti ad andare a visitare la nostra pagina Facebook e il sito web perché è in continuo work in progress. Quanto incide la farina sulla vera pizza napoletana? La farina certo incide perché avere un prodotto di qualità aiuta ad esaltare le doti del pizzaiolo ma ovviamente la cosa più importante sono la passione e l'attenzione che un artigiano mette nel suo prodotto. quindi avere un prodotto di qualità aiuta ma sicuramente fa molto la parte tecnica da parte dell'artigiano. Siamo molto attenti a chi purtroppo ha esigenze particolari in fatto di alimentazione per questo abbiamo fatto una linea totalmente priva di glutine con il fiore glut e con la farina di riso e quindi perfettamente adatta a chi ha questo genere di problema. C'è anche una grande risposta da parte dei pizzaioli e dei maestri panificatori per questo tipo di farine. Sì, fortunatamente è un prodotto che ha risposto molto bene sia dal punto di vista gustativo quindi un ottimo sapore sia dal punto di vista di resa. È un ottimo prodotto e si sono trovati molto bene sia a impastarlo sia a mangiarlo.